Eccoci a spiegare le modalità di acquisto dei videocorsi su AutoCAD 3D Studio Max presenti all'interno del sito PrismaCAD. Questa è la home page del sito dove ci si arriva digitando l'indirizzo www.prismacad.it. Trovate già in questa pagina una descrizione dei vari corsi presenti all'interno del portale TeachWall dove appunto noi ci arriviamo cliccando per esempio sui numerosi link che portano su questo portale per esempio o sopra le immagini o qui cliccare per visionare alcune video lezioni free. Quindi andando su questa vetrina dove da qui è possibile effettivamente acquistare i videocorsi noi abbiamo anche la possibilità di visionare alcune lezioni free e renderci conto se effettivamente il videocorso fa per noi oppure no. Qui avete la possibilità di scegliere singoli corsi per esempio AutoCAD 2D base, centriamo un attimo per vedere com'è composto, c'è una descrizione, il programma del videocorso ossia tutte le lezioni in formato video HD possiamo svolgere con questa tendina l'intero programma, queste sono tutte le lezioni presenti. Tra le altre cose vi dicevo che c'è la possibilità di vedere alcune lezioni in maniera completamente gratuita cliccando su free preview. Qui si accede ovviamente a quella che è la lezione vera e propria dove anche abbiamo la possibilità ed è una delle caratteristiche di questi corsi abbiamo la possibilità di scaricare con il tasto destro salva link con nome il video all'interno del nostro computer, questo per magari svincolarci dal collegamento web. Altra caratteristica di questi videocorsi è che per i primi 30 giorni se non siete soddisfatti avete la possibilità di restituire tutto e di essere rimborsati. Quanto dura il videocorso? Praticamente il corso ha, come spiega qui, durata illimitata. Nel momento in cui voi vi iscrivete l'accesso è per sempre. Le lezioni rimarranno sempre sul portale di Teachball. Questo vi garantisce a vita di avere sempre a disposizione online le lezioni del videocorso. Altra caratteristica di questi videocorsi è che sono sempre aggiornati, vedete. Solitamente metto le ultime lezioni inserite sotto questa voce per fare in modo che per tutti sia molto più semplice ritrovarle una volta che inserisco appunto nuove video lezioni. Quindi voi acquistate a un determinato prezzo l'intero videocorso, il prezzo rimarrà sempre quello per voi anche se io continuo ad inserire nuove lezioni, nuovi video. Chiaramente il prezzo poi aumenterà giustamente, ma però per voi che avete già acquistato il prezzo rimarrà sempre bloccato al prezzo di acquisto. Abbiamo suddiviso gli argomenti di AutoCAD in base ed avanzato sia per l'argomento 2D sia per l'argomento 3D, quindi troverete anche AutoCAD 3D base e 3D avanzato. La possibilità eventualmente di acquistare i due videocorsi assieme, ecco qui, quindi risparmiando, in questo caso facendo questa scelta acquisterete sia AutoCAD 2D base che avanzato, o ancora invece AutoCAD facendo quest'altra scelta 3D base ed avanzato, ma anche altre combinazioni. Per esempio questa mette assieme 5 corsi, ovvero tutti i videocorsi che riguardano AutoCAD 2D e 3D base ed avanzato, più un corso di modellazione scacchi per perfezionare le tecniche sulla modellazione appunto 3D di AutoCAD. Mentre in quest'altro gruppo di corsi avete la possibilità di acquistarne 8 tutti quanti assieme, ovvero eccoli qua. 2D base, avanzato, 3D base, 3D avanzato, AutoCAD pratico, questo videocorso spiega con delle lezioni passo passo sia nell'ambito architettonico che meccanico come realizzare progetti con AutoCAD sia nell'ambito bidimensionale che tridimensionale. Mentre AutoCAD fotorealismo praticamente partendo da zero si realizza una palazzina, quindi tutte le tecniche 3D per realizzare l'edificio e poi come assegnare materiali e luci per realizzare un render fotorealistico. AutoCAD blocchi dinamici è un videocorso unico nel suo genere nel senso che spiega come realizzare i potentissimi blocchi dinamici in AutoCAD per poter gestire al meglio la geometria ripetitiva all'interno della progettazione. Poi per concludere scacchi 3D che è un modo per esercitarsi nel 3D avanzato di AutoCAD sia nella modellazione che nell'assegnazione dei materiali e nel render finale. Vedete questo sarebbe il prezzo di tutti i corsi messi assieme mentre voi ovviamente facendo la scelta di l'acquisto di questo gruppo il prezzo che trovate è questo qui. Una volta che avete deciso la scelta del corso basta cliccare all'interno di questo box, acquista il videocorso, venite indirizzati in una finestra dove dovete creare il vostro account per l'entrata e l'acquisto del videocorso e quindi dovete inserire con precisione un vostro indirizzo mail, nome e poi qui sotto gli estremi della carta di credito ricordandovi che il CVC lo trovate sempre nella parte retrostante della carta e solitamente sono 3 cifre. Poi c'è sicuramente da accettare i termini del privacy e poi cliccare su iscriversi al corso. In questo modo voi avete immediatamente accesso a tutte le video lezioni in questo caso di tutti gli 8 corsi. Ultime cose da dire, massima trasparenza e massima tranquillità nell'acquisto. Nel senso che avete comunque un mese di tempo, se il videocorso non vi piace, non è di vostro gradimento, potete restituirlo nell'ambito dei 30 giorni successivi all'acquisto e vi sarà rimborsato l'importo da voi speso. Poi ogni videocorso ha delle lezioni che sono liberamente visualizzabili, quindi vi invito a vederle prima di fare l'acquisto, capire se per voi può essere una tecnica efficace per imparare questo programma, ma vi assicuro che in base alle esperienze di tutti coloro che hanno già fatto questa scelta, di fatto quelli che hanno acquistato questi corsi sono in grado di realizzare progetti con AutoCAD in modo veramente efficace. Bene, se decidete di unirvi ai miei videocorsi siete i benvenuti. Grazie dell'attenzione, alla prossima!